ciao a tutti e benvenuti su stefani club io sono stefania quest'anno per halloween ho pensato di riproporre una ricetta di giallo zafferano che ho già realizzato qualche anno fa nella versione senza lattosio sto parlando del cimitero delle streghe un dolce lugubre ma perfetto per quest'occasione per realizzare il mio brownie spider web di halloween occorre mettere in una ciotola capiente due uova intere 130 grammi di zucchero di canna muscovato e un pizzico di sale montare il tutto con le fruste elettriche fino ad ottenere un composto spumoso alla prossima Aggiungere ora 100 g di burro delatto sato e continuere a montare il tutto. A parte fa sciogliere 200 g di cioccolato fondente a pezzo, con 50 g di burro delatto sato. Aggiungere al composto 130 g di farina manitoba e 16 g di lievito per dolci. Quando le farine saranno ben amalgamate, aggiungo all'interno il cioccolato fuso. Aggiungere 50 g di acqua naturale a temperatura ambiente. Aggiungere al composto Ora che il composto è pronto, versare in una teglia quadrata rivestita a carta forno, infornare a forno già caldo a 175 gradi per 20-25 minuti, quale la prova secchino prima di sfornare. I tempi di cottura ovviamente possono variare da forno a forno. Alla prossima Quando la torta sarà ben fredda, dividerla a quadrotti e decorarla con la crema di marshmallow. La fluff si trova nei negozi di dolciumi ben forniti oppure online. Alla prossima Alla prossima Il video termina qui, spero ti sia piaciuto. Non dimenticare che per sostenermi basta lasciare un like, commentare il video, condividerlo sui social ed ovviamente se non sei ancora iscritto iscriviti al canale, spunta anche la campanella e potrei essere avvisato tutte le volte che pubblico un nuovo video. Ciao e alla prossima!